Ciao ragazzi, voglio parlarvi innanzitutto dei monomi simili. Sono quei monomi che hanno la stessa parte letterale e questi due sono monomi simili perché possiamo trasformare ad esempio questo secondo monomio in questo modo, poiché la moltiplicazione gode della proprietà commutativa, quindi posso cambiare l'ordine dei fattori e la moltiplicazione del prodotto non cambia. Ecco, vedete, questa parte letterale è uguale a questa, quindi questo monomio e questo monomio sono simili. Andiamo a vedere questi altri due. Scriviamo ad esempio meno un mezzo a quadro c b quadro, quindi sempre per la proprietà commutativa ho cambiato l'ordine di questi due fattori. Quindi a quadro l'ho scritto qui, c l'ho scritto qua. b al quadrato l'ho lasciato al suo posto. Quindi andiamo a vedere la parte letterale a quadro c b quadro, a quadro c b quadro, quindi questi due monomi sono simili. Cosa diversa accade a questi due monomi perché non hanno affatto la stessa parte letterale. Vedete, anche se cambio l'ordine dei fattori, b compare qui e qua, a pure, però abbiamo x al quadrato nel primo monomio e x al cubo nel secondo monomio. Quindi questi due monomi non hanno la stessa parte letterale, quindi non sono monomi simili. Continuiamo col parlare dei monomi opposti, cioè quei monomi simili ma che hanno i coefficienti opposti. Quindi ad esempio meno 5 a b alla seconda e più 5 b alla seconda per a sono opposti perché hanno la stessa parte letterale a b quadro b quadro a, però hanno i coefficienti opposti, meno 5 e più 5. Ecco, andiamo a vedere se questi due monomi sono opposti. Questo qui lo possiamo scrivere come meno 7 alla 0 è 1, quindi non lo scriviamo, per a x al cubo. Ecco, questo monomio e questo monomio sono simili perché hanno la stessa parte letterale, però il coefficiente di questo è 1, il coefficiente di quest'altro è 3, non sono opposti e quindi questi due monomi non sono opposti. La loro somma non fa 0, mentre qui la somma fa 0. Invece per quest'altra coppia di monomi che cosa accade? Che meno 2 alla quarta è uguale proprio a 2 alla quarta, quindi 2 alla quarta, questo lo possiamo riscrivere come x quadro y alla quinta e vediamo che non sono due monomi opposti, ma sono identici, hanno la stessa parte letterale e gli stessi coefficienti. Se invece mettiamo un meno qui ad esempio, questi due monomi diventano opposti, perché i coefficienti sono opposti e le parti letterali sono uguali. Adesso vediamo come si fa a sommare i monomi simili. Vedete, questi sono tutti monomi, questo è un monomio, è un monomio, anche questo e pure questo. Sono tutti simili perché hanno la stessa parte letterale, b al cubo compare dappertutto. Vedete? Cambiano soltanto i coefficienti. Dobbiamo ricordare, ragazzi, che quando si fanno le somme di questo tipo è come se noi andassimo dal fruttivendolo e facessimo la somma, ad esempio, di 2 mele più 3 mele. Quindi la parte, questo lo possiamo vedere come un monomio, anche questo. Quindi la parte letterale è mele, quindi se facciamo il conto noi sommiamo semplicemente i coefficienti, 2 più 3, quindi fa 5, e poi riscriviamo mele. Quindi con questo, se vogliamo, giochetto in mente, quando vediamo un'espressione di questo tipo, riscriviamo la parte letterale, così, b al cubo, e qui come coefficiente mettiamo la somma algebrica di tutti i coefficienti. Quindi 3 quarti, meno 2 decimi, meno 15 decimi, più un quinto. Questo è uguale a questa roba qui. Quindi ho fatto le semplificazioni, poi il minimo comune multiplo, e poi ho finito di eseguire i conti. Quindi il risultato è meno 3 quarti b al cubo. Adesso facciamo la somma tra questi monomi. Questa è un'espressione con monomi che non sono tutti simili tra loro. Dobbiamo mettere in evidenza, prima di tutto, quelli simili tra di loro. Ecco, utilizzando i colori diversi, ho messo in evidenza che cosa? Che questo monomio è simile a questo, perché hanno la stessa parte letterale, x quadro, y. E i coefficienti sono diversi, 2 terzi e meno un terzo. Ma questo non importa. Quello che è essenziale è individuare i monomi simili, quindi quelli che hanno la stessa parte letterale. Poi abbiamo meno 6x cubo e 4x cubo, meno 4y quadro, più 4y quadro. E poi per finire, in arancione, meno y e più y. Quindi andiamo a eseguire i conti. Ecco, facendo il ragionamento di prima, ho, tra questi due monomi simili, ho riscritto la parte letterale e poi, come coefficiente, ho fatto la somma algebrica tra 2 terzi e meno un terzo. E la stessa cosa vale per questi due monomi, meno 6x cubo più 4x cubo. Quindi stessa parte letterale che ho riscritto. E come coefficiente, la somma algebrica tra i coefficienti, meno 6 più 4. Stessa cosa per 4y quadro e 4y quadro. Quindi y quadro lo riscriviamo e viene meno 4 più 4. Vedete? Meno 4 più 4. E poi meno y più y, abbiamo riscritto y e la somma algebrica tra i coefficienti. Ovviamente chi è allenato può anche saltare questo passaggio. Ecco, ritengo opportuno che far vedere questi dettagli, perché chi è più indietro con l'algebra possa capire. Quindi andiamo avanti. 2 terzi meno un terzo fa un terzo, quindi un terzo x al quadrato y. Meno 6 più 4 fa meno 2, quindi meno 2x al cubo. Meno 4 più 4 fa 0, quindi 0y quadro 0. Non lo scriviamo. E qui la stessa cosa, fa 0. Quindi il risultato è proprio questo. Vi invito a iscrivervi a questo mio canale YouTube, a mettere mi piace sui video che trovate interessanti, per noi è importante, e i vostri mi piace ci permettono di portare avanti questo nostro progetto didattico. E poi a iscrivervi al mio blog di matematica gratuita, ilmatematto.blogspot.com. Ciao e alla prossima! Ciao!